Marco Bellavia, il comunicato dello sponsor dopo la bufera sul caso del Geffino Uno dei principali sponsor del GF VIP, ovvero Amica Chips, ha voluto manifestare attraverso un comunicato diffuso sui social, il suo disappunto riguardo le dinamiche, che hanno visto coinvolto l'ex conduttore di Bim Bum Bam Il comunicato di Amica Chips sul caso di Marco Bellavia. Uno dei principali sponsor del GF VIP ha diffuso un comunicato che invita a una riflessione Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli, questo il contenuto scritto dall'ufficio stampa del marchio Il comunicato di Amica Chips sul caso di Marco Bellavia al GF VIP 7 Lo sponsor Amica Chips si dissocia da quanto accaduto nella casa del GF VIP merito alle difficoltà esternate in più occasioni dal concorrente Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del GF VIP, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti, e che li assecondano, cosa che non facciamo E ancora. Noi essendo sponsor del programma, ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue, e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola Un comunicato che ha fatto schierare anche alcuni fan del programma, affinché essi prendano provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni VIP Tra questi Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi e Igegia Non si conoscono le decisioni a cui andranno incontro gli autori del programma, ma si fanno largo alcune indiscrezioni in vista della prossima puntata Con ogni probabilità il caso di Marco Bellavia verrà ampiamente discusso durante la diretta tv